Ti senti se che è successo, una cosa straordinaria, lo saù da proprio adesso, l'altro a col naso per aria, l'era là in piazza del dom, che il sapeva più se fa, il girava a me un po' rom, ma il sapeva non dove andare. Ti senti se che è successo, una cosa eccezionale, me parlerà anche adesso, che arriva al telegiornale, che veniva già il giornalista per cercare di far parlare, gli hanno fatto un'intervista, ma questa è una cosa che fa, ma alla fine se posso sapere se che è successo, porco dunca, hanno trovato un milanese chi è a Milano, ma va, hanno trovato un milanese chi è a Milano. Nel cercava di parlare, ma nessuno lo capiva, dopo un po' la la sasta, e sì perché se no impazziva, che erano tutti pieni di baresi, piemontesi e siciliani, e se no erano genovesi, calabresi o veneziani, che era fino a uno zulu, e vende la Polinesia, dello Zambia, erano indù, che era vende la Rhodesia, c'era chi parlava il turco, chi parlava l'australiano, ma nessuno che parlasse il dialetto de' Milano, e per forza chi pudeva, suspetà, porco dunca, di trovare un milanese chi è a Milano, oh già, di trovare un milanese chi è a Milano. Forse il mettene in un stand alla fiera campionaria, forse il mettene in un museo, e il mettene là col nas per aria, forse il mettene in riserva, come se fa con gli indiani, come forse un pele rossa, invece che vende Milano. Forse invece il metterà, ai giardini in una gabbia, in scipe tutti andarà, a vedere il sciupa di rabbia, a vedere com'è che il mangia, se che piace la carne al pesto, se sta lì come un pantula, o le vispor per i fless, in scia al me in se pubarà, vengi a sole, porco dunca, com'è fatto un milanese de' Milano, oh sì, com'è fatto un milanese de' Milano. No, le minga vera, era uno scherzo, di milanesi ce n'è ancora, eh, per esempio c'è il sindaco, no, che lì no, perché il vendè, beh c'è il sovrintendente alla scala, il cap di ghisa, no, non c'è chi lì, perché vengono il vendè e che l'altro è il vendà. D'altronde Milano è una metropoli, dunque è giusto così, c'è gente che va, gente che viene, certo che se andiamo avanti a Montpuga, finì che perdiamo, ai giardini pubblici, un dio e l'altro, fanno su un altro recinto e mi mettono là, con su un cartello, omo milanesi, e in turno tutti altri la rinno, e vi altri, una volta o l'altra, vi vennerà a vedere qui, che vi piccaranno sulla spalla e poi vi disaranno. Ti senti se che è successo, una cosa straordinaria, lo saluto proprio adesso, l'entrò a con la speraria, ma alla fine se posso avesse che è successo, porco dunca, hanno trovato un milanese chi a Milano, ma va, hanno trovato un milanese chi a Milano.